Beh ragazzi, come promesso oggi si inizia un torneo alla meglio di 3 Che significa? Che il primo che raggiunge 5 è vinto Il primo che fa 2 di Fida vince O 3 Allora facciamosi arriva a 3, non alla meglio di 3 No, alla meglio di 3, ma non rompere le tradizioni Ma non vuoi rompere le tradizioni come cazzo vuoi fa 2? 3 Alla meglio di... Buon tornato! Con il giovedì di cui tu sul server Chi inizierà? Tu Come giusto che sia, perché l'ultima volta Ti invidio molto che parti tu su sta mappa Cattano, ma diventi quanto che cazzo di schifo? Raga, devo fare una cosa brutta Pochi punti in realtà Cioè il massimo che posso, ma pochi sembra Allora A Synergo gli ho fornito la possibilità di entrare in due pertuggi Ma in realtà mi hai più rotti i coglioni che altro Dilemmo riportare in auge dei... Dei... Buono Buono Comunque mi piace quando fai queste cose No? Eh, mi hai rotti il cazzo No, va bene Il primo lo puoi prendere Che sono gli altri che mi spaventano Sai? Dilemmo riportare in auge Ti tertugio Ci provo? Io preferisco dirla alla termolese Upertugge Upertusa Upertusa Ho sbagliato Non ho fatto tanti punti, era un tiro scialbo Li portiamo in auge tutti quei termini che non si usano più Tipo, puttana di mamma, quel termine là Io non ho mai fatto un tiro così brutto e così spettacolare allo stesso tempo Era veramente brutto, ma è bello Io ci provo, so di sbagliare in questo tiro Ma l'idea era sicuramente sbagliata dall'inizio Molti ragazzi non sanno neanche cos'è una per bene Quel tiro lì adesso diventa veramente cattivo Ma anche di cattivo gusto Ma se entra Mi avevi quasi rovinato, eh Quasi quasi rovinato Però non è andata come speravo Non è andata come speravo, ragazzi del team Sinergo mi dispiace ma Ci creda tu, cazzo Meno male Vaffanculo Senti Sinergo prova il tutto per tutto È un tiro doloroso quello che fa Ed è meglio così Per tutto Vabbè, volevo prendere un verde ma... Che cazzo prendo Dovevo mantenere il mio vantaggio, ragazzi Ce la faccio se non è E fa che? Che figlio di puttana, doveva rimbalzare invece... Invece andata proprio come volevi tu Male Allora ragazzi... Tenti ancora questo per tre? No Cioè questo per tre Il per tre lo vorrei fare io Porca troia Non l'avevo visto quella zoccola là sopra Però guerra dei poveri comunque Madonna Cosa potrebbe darmi? Allora Ragioniamo Faccio un mio strategico Allora, se entri là Sbatte qua e torna fuori Se entro lì e sbatte fuori Se faccio così potrei sbattere Potresti prendere il verde Però potrei fare un per tre Che sarebbe comunque molto povero Perché potrebbe finire a meno 25 O una palla aggiuntiva Per prima volta Spero nella palla aggiuntiva Ma veramente potrebbe anche darti flower power No, mi ha ammalato un cazzo No No Sinergo prova a mantenere il punteggio alto Per vincere la battaglia dei poveri E che cazzo? Non sarebbe servito a niente L'avevo calcolata Ma non sarebbe servito a niente Era una questione tra me e la palla Per 15 punti vinco Ci va il primo round Ho vinto per i primi 15 punti È un vinto Adesso parto io Bisogna accontentarsi delle piccole cose ragazzi È vero Che tipo Io mi accontento che mi esce un cazzo di verde inutile Dai il cazzo è il tuo personaggio perfetto Ma fai a cagare Non ho mai detto che fosse il mio preferito Ho detto che non è così pessimo come dici tu È il peggiore del gioco Indubbiamente Secondo solo Al castoro quando... Tu ti ricordi il tiro che ha fatto qua brutta merda? Eh non ti è venuto uguale No non mi è venuto uguale però ricordiamoci che Synergo è una merda Ogni tanto va detto Bello però sto tiro Basta? Basta? Madonna Oh! Pulo Beh dai è andata bene 17.000 Guarda 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 come è iniziato questo tiro Ti avrò puntato lì Come per invogliarti Voglio... Vuoi credere nel destino? Invece ha detto no Dai fai uno sfondo qua Eh no No? Ci dici? No? Vabbè non è esagerato Porca troia Ma hai staccato di un miliardo e mezzo di punti Come è giusto che sia Più che così dovevo andare Cioè è giusto Cari amici dell'Inter Guarda se entra quella pallina di merda E mo? E mo? E mo c'è il posticico Allora devo... Marta satana Bravo Sono 10.600 Eh volevo prendere quel lato Sbagliato dell'angolo Gesuita C'è in ballo una festa estremo Scusa ma erano 5 partite Non c'è Nooo Dovevo Non c'è più in ballo una festa estremo No c'è in ballo una festa Vaffanculo Ragazzi Ci ho provato Ho provato Ho diehardato Trajardato Diehard e Diehardman Orca troia Ho mollato il giro Mi hai detto una cosa che sembra che non ti fai più di eroino Non è servito a niente la mia tattica superba C'è in ballo una festa estremo Sono 4 palle e 4 tiri Attenzione Sinergo Posso? Posso dirti che devi andare a fare in ballo? Ho fatto un bel tiro cazzo eh Calcolato Ma posso dirti che posso poi andare a fare in ballo? Senza dubbio ma ho fatto un bel tiro Marca troia l'ho mollata Nel senso che non ha scorreggiato Non ha ancora Ma dai Tu sai come scorreggiano gli ippopotami? È una curiosità La bocca È interessante No scorreggiano forte Me l'ha lasciata Me l'ha lasciata Me l'ha lasciata Ma non potevo fare altrimenti ragazzi Cerco il viola Dai Lo manca Ma va a 50 Ah che culo di merda E 50 sia Comunque posso dire un terzo delle tue feste estreme finisce nel 50 Non è vero Amico che fa le statistiche Mi chiama Francesco No no veramente Un terzo delle tue feste estreme Ha pure un terzo delle mie va nel 50 7 e 7 21 Esatto Si ha staccato di 70.000 punti E tocca a me E No 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 Sai che forse è meglio così Hai fatto pure troppi punti per i miei gusti Perché tu non puoi entrare adesso A meno che non fai uno di quei tiri belli Eeeh Bello sto tiro comunque Sì eh E adesso mettimelo qua No eh No Ti ha giocato molto male È vero però se fosse andata da quel lato ti avrei aperto un pertugio che non volevo aprirti Ha detto proprio hai fatto un tiro di merda Ma ci penso io scusami Ma come me è schifo Vedete questa è la tattica La tattica di Zio Redez era quella di No Torna indietro Torna indietro Sopraffina come tattica La tattica di Zio Redez voleva che quella parte rimanesse estremamente chiusa per non permettere al bufo di Vaffanculo Bella Qua ma Mastecatos Con una conclusione degna di nuota Quanto odio ste mappe dove Volevo giocare safe ma non posso giocare safe in effetti Sinergo adesso c'ha una bella gano perché Sinergo tira Ah fottiti E mu? Nicola che deve fare? Nicola tira safe Ah allora si Si fa Eh dai Merda 500 punti Ma come cazzo ci vale Non c'è in palco una testa estrema Mi dispiace Simboli matematici nella testa di Sinergo Ah Di poco porca puttana Però Se io dovessi fare lo stesso tiro Eh no adesso ci arrivi Merda 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 Che ho pulito tutto quello che Voglio che se vinci adesso per miracolo eucaristico No non voglio fa 70 mila punti 60 E non li fa Madonna Vince questa prima partita del terreno mini Lo zio Redex Perché abbiamo fatto già tre partite abbiamo fatto Madonna Sono molto felice di questa vittoria Amici della Santa Ci ho sempre creduto E grazie per Essere così vicini Cazzo stenti E ci vediamo la prossima partita Ciao Ciao